Matteo, 28 anni, Viareggio. Sono un calciatore, ho iniziato a finire da piccolissimo, a 6 anni. A 18 anni ho firmato il mio primo contatto da professionista con l'Atalanta. Io ero fidanzato con Paolo Di Benedetto, ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Siamo stati insieme quasi 4 anni, è stata una storia d'amore molto intensa e pensavo che fosse quella giusta. Eravamo fidanzati in casa, tutti pensavano che questi si sposano, fra un anno si sposano. Prima della sua partenza per l'Isola dei Famosi ci siamo rivisti una sera a cena. Paolo mi ha detto che mi voleva tanto bene, che sicuramente ci saremmo rivisti al suo ritorno e che eravamo comunque legati da un qualcosa di molto molto importante che non sarebbe mai spento. E poi invece dopo pochi giorni dal suo arrivo in Honduras, si è buttato tra le braccia di Francesco Monte e che è brutto.